Aria! Fai una pausa dallo studio? Più che altro pausa a zuccheri. Io ho dovuto comprare un lucchetto per il casotto. Qualcuno vi ha fatto irruzione oggi. Davvero? Sì. Beh, di sicuro non è stato Mike. Non esce dalla sua stanza da giovedì. Non intendevo questo. Sono contento di averti incrociato. Speravo di parlare con te. Grazie.